L'immagine più bella della vittoria della Roma oggi contro il Monza è stata quella alla fine della gara. Le lacrime di Stefano Esciarawi, autore del gol della vittoria della Roma, abbracciato da tutto il popolo giallorosso, abbracciato da tutti i compagni, il bacio di Lukaku sulla fronte di Stefano Esciarawi, che ha scaricato veramente un po' tutta quella che era la sua rabbia, la sua frustrazione in una settimana pesante per lui e le diffamazioni che ha avuto e che ha ricevuto, ma come tutte le persone per bene e le persone oneste, le persone e i professionisti veri ha risposto sul campo. E quando gli ha dato l'occasione il tecnico Murigno ed è sceso in campo, lui l'ha sfruttato veramente al massimo, segnando il gol nel recupero, un gol che ha dato tre punti pesantissimi alla Roma, perché ottenuti comunque contro una squadra che in questo momento sta giocando bene, che viene da un buon momento. Di Gregorio, insomma, era un bel po' di tempo che non prendeva gol, tra parentesi, gran bel portiere, insomma. Io ci farei un pensierino, se possibile, dal prossimo anno, ma indipendentemente da questo, è una squadra, dicevo, che gioca bene, ben messa in campo, che ha bloccato la Roma, cercando di non darle la possibilità di fare il suo gioco. Roma che ha giocato male, Roma che ha giocato male sotto ritmo, con giocatori che sicuramente hanno risentito anche delle trasferte internazionali, intercontinentali, gli impegni con le loro nazionali, però è stato di fatto che ha giocato male, Roma ha sfruttato poco, pochissimo le fasce laterali, andava più per via centrali. Le poche volte in cui l'ha fatto invece lì si è resa un po' pericolosa. Nel primo tempo Di Gregorio è stato bravo in un paio di occasioni. Poi l'espulsione di D'Ambrosio e nel secondo tempo la Roma in superiorità numerica ha avuto quasi più opportunità il Monza rispetto alla Roma. Nel senso che comunque Rui Patrizia ha parato, ha fatto delle parate, cosa che non ha fatto Di Gregorio, che ha subito soltanto dei tiri con un palo esterno, una traversa esterna di Lukaku, il palo clamoroso di Asmon e sul gol non poteva fare assolutamente nulla sul gol di El Sharawi. Però era ovviamente un gol che aspettavamo e che speravamo tutti potesse segnare il Faraone e lo ha fatto. La classifica della Roma rimane comunque la stessa ma voglio guardare oltre, voglio andare oltre questa partita e pensare a quello che ci sarà tra poco, quindi tra la gara di giovedì prossimo in Europa League contro Slavia Praga, poi domenica prossima contro l'Inter a Milano e sarà lì una bolgia specialmente per Lukaku. Devo dire che non mi è piaciuta l'espulsione subita da Murigno nel finale che quindi mancherà nella gara proprio di Milano. Secondo me se la poteva veramente evitare. Però in queste gare qui è chiaro che questa Roma dovrà continuare a basarsi solo su un gruppo di giocatori perché molti stanno fuori, non si sa quando ritornano. Di Bala non ce la farà neanche con l'Inter. Renato Sanchez non si sa, insomma, vediamo quello che sarà. Con lo sarà Smalling, sentiamo magari qualcuno, se c'è Cifoni, qualcuno che c'è da qualche notizia di Smalling. Insomma, giocatori, Pelligrini stesso che sta fuori, altri che stanno comunque in campo non al meglio delle condizioni. Insomma, questo la polia dice lunga su quello che possono essere le prospettive della Roma in questo frangente, in questo periodo in cui dovremo veramente giocarci una parte, una fetta importante della stagione. È normale che poi ci dovremmo affidare solo di questi giocatori, di pochi giocatori che poi ti rimangono e che ti possono dare un minimo di contributo di qualità e diventa veramente difficile per poter superare questo momento. Quindi speriamo. Abbiamo visto Iorente in un frangente della partita, ha cambiato Murigno nel secondo tempo, non ha messo la difesa a quattro, ha giocato un po' il tutto per tutto, ha rischiato, però insomma, non ha mollato, come squadra di Murigno sono così, non ha mollato fino alla fine, meno male, insomma, che è andata per il verso giusto. Però adesso veramente c'è la speranza di poter cercare di andare a recuperare qualche giocatore importante, perché sennò diventa molto molto difficile. Roma ha giocato sotto ritmo, ha giocato male e deve per forza di cose un po' cambiare. L'Inter, che affronteremo domenica prossima, ha probabilmente quasi tre squadre a disposizione rispetto a noi, insomma, la differenza è abissale. Però vediamo un po'. Belotti, secondo me, ha fatto la sua buona partita. Bravo Cristante, ma Cristante continua a dire bravo a lui per quello che sta facendo, per il sacrificio che sta mettendo in campo al servizio della Roma. Però, ripeto, oggi è la giornata di Stefano Sciarawi, a lui va veramente l'abbraccio forte, l'abbraccio forte e affettuoso per quello che ha subito. Naturalmente anche a Zaleschi, partiamo dal presupposto che veramente loro abbiano ragione, ma sui Sciarawi devo dire la sincera verità, pur non conoscendolo affatto, ci mettono la mano sul fuoco, ma invece metto tutto sul fuoco sicuro di non andarmi a bruciare o a ostionare. Quindi veramente l'abbraccio forte a lui, da tutto il popolo giallorosso, ad un ragazzo, ad un giocatore che ha dimostrato vero attaccamento alla maglia giallorossa e ha dimostrato grandissima serietà e professionalità. E un bel saluto, un bel saluto al pregiudicato. Forza Roma, sempre, sempre, sempre. Forza Roma, forza Roma, forza Roma.